Quali sono gli errori più comuni e più facili da evitare quando si sta facendo fotografia di architettura o fotografia di interni? Nel corso di questo video vado a spiegarvi quelli che secondo me sono i cinque errori più frequenti che per nostra fortuna sono anche i più grossolani e i più facili da evitare. Ciao a tutti amici bentornati sul mio canale. Io sono Cesare, mi occupo di fotografia, ho fatto diversi shooting di fotografia sia di interni sia di architettura, la maggior parte per persone o enti che volevano semplicemente affittare degli immobili e qualche volta mi è capitato di farlo anche per architetti quindi ho avuto modo di vedere tutta la casistica. Durante questi shooting mi sono reso conto di quali possono essere le criticità e di quali possono essere gli errori che io stesso ho commesso o comunque che ho cercato di evitare durante tutti questi shooting per arrivare a un risultato che sia quanto più conforme possibile ai canoni della fotografia di interni e della fotografia di architettura. Nel corso di questo video vado a spiegarvi quali sono questi errori e quali sono i metodi più semplici per evitarli. Prima di cominciare vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale cliccando il bottone qui sotto perché vedo che molti di quelli che seguono i miei contenuti poi non sono effettivamente iscritti e questo è un peccato perché vi andate a perdere sia gli aggiornamenti su temi ricorrenti come questo sia le mie risposte ai vostri commenti sotto forma di shorts verticale. Benissimo ma andiamo a incominciare col primo grande errore questo è proprio un errore di approccio metodologico ovvero la scelta della fotocamera e la scelta dell'ottica. Ora io lo so la domanda che mi fate più spesso in assoluto è dimmi che fotocamera devo prendere la seconda domanda che mi fate più spesso in assoluto è dimmi che obiettivo devo prendere ora io non lo so che obiettivo dovete prendere proprio come non so che cravatta vi dovete mettere o con che ragazza dovete uscire quelle sono scelte molto personali che possiamo trattare insieme ma dovete mettermi a parte di tutta una serie di informazioni per esempio che fotocamera devo prendere per fare fotografia di interni questo è già un pochettino più comprensibile per il sottoscritto è un po come se mi diceste che cravatta devo mettermi considerando che ho questo colore di carnagione e questo colore di capelli e questo tipo di corporatura allora già ci si può avvicinare. Nello specifico per fare fotografia di interni che tipo di fotocamera ci serve? Beh ragazzi anche qui io non vi posso dire esattamente che tipo di fotocamera comprare però vi posso dire una cosa quando facciamo fotografia di interni e fotografia di architettura ci fa molto comodo avere un grandangolo il grandangolo rende meglio sulle fotocamere full frame perché per natura del sensore avremo una maggiore propensione ad avere degli obiettivi grandangolari su quel tipo di sensore piuttosto che su APS-C o su micro 4 terzi che essendo sensori più piccoli per natura tendono ad avere delle ottiche che nascono già più lunghe. È vero che esistono produttori che creano delle ottiche apposta tarate su questi tipi di sensori per esempio Fuji è un brand che non fa mistero di puntare molto su sensori più piccoli del full frame e quindi ha delle serie di ottiche dedicate a questi sensori. Ecco che dobbiamo stare di nuovo attenti però se io credo che prendendo un 16 mm sono a posto su qualunque tipo di macchina sto fresco perché un 16 mm va bene per fare foto di interni su full frame ma non va altrettanto bene su un sensore di altro tipo perché su un sensore APS-C dobbiamo moltiplicare per 1.5 e su un micro 4 terzi di nuovo avremo un altro fattore di moltiplicazione quindi noi crediamo di stare comprando quell'ottica e poi se non abbiamo un sensore full frame andiamo a montarla e la resa sarà completamente diversa quindi questa è la prima cosa su cui dobbiamo fare estrema attenzione. Superato questo primo intoppo in cui guardate mi sono trovato anch'io a me è capitato di provare a fare foto di interni con un 28 mm non andava bene. Una volta superato questo primo intoppo la seconda cosa di cui ci rendiamo conto è che la luce può non andare bene e è molto facile per me illuminare me stesso eliminare la facciata di un edificio o illuminare un salone da ballo sono cose ben più complicate. Ecco perché in fotografia di interni e di architettura il consiglio che sento dare spesso e che mi sento di dare a mia volta è di scegliere molto accuratamente l'ora del giorno e anche la stagione in cui andiamo a fare il nostro shooting perché osservando anche semplicemente gli interni di casa nostra ci rendiamo conto di come il sole fa un percorso diverso a seconda della stagione. Io mi rendo conto in ufficio che in inverno il sole sta su uno dei due lati del nostro ufficio mentre in estate mi arriva in faccia dall'altra parte e siccome mi dà un fastidio bestia quando mi arriva in faccia me ne accorgo che in estate cambia giro. Il sole fa un giro diverso a seconda della stagione e fa cose diverse a seconda del tipo di giornata e del momento della giornata in cui stiamo scattando la nostra foto. Se stiamo facendo un lavoro importante scegliere il momento migliore per recarsi a scattare le nostre fotografie è una cosa assolutamente da fare perché in questo modo riusciamo ad avere la luce migliore sulla nostra scena addirittura vi posso dire una cosa esistono dei casi in cui si fa time blending ovvero si va a fare la fotografia a una data ora del giorno tre piede piantato lì e non ci si muove più a una certa ora del giorno si fa una foto a un'altra ora del giorno si fa un'altra foto per avere magari faccio per dire le luci del cielo in un certo modo quindi magari le luci del cielo durante una bella giornata di sole ma gli interni al tramonto con le luci accese è una cosa che si può fare e che ogni tanto è capitato di fare anche a me quindi pianificare e scegliere accuratamente il momento in cui fare i nostri scatti è assolutamente vitale poi ovviamente c'è anche il fattore fortuna a me è capitato di passare per caso davanti a una sede aziendale per cui dovevo realizzare delle foto e puta caso in quel momento c'era un cielo sfolgorante io non ero lì per fare le foto quel giorno le avevo fatte in un altro momento sono passato per caso in un altro momento detto aspetta momento a costo di dire alle persone che mi stanno aspettando che mi devono aspettare 15 minuti però io adesso faccio una foto al volo di questa scena perché è molto meglio di quelle che ho fatto nei giorni scorsi quindi capita anche questo un altro errore cruciale assolutamente da evitare è quello di sbagliare i parametri di scatto e qui non sto parlando di sbagliare l'esposizione dopo il scontrato che l'esposizione la sappiamo fare quindi la scena è esposta correttamente ma ci sono tanti modi diversi di esporre correttamente la scena io posso avere un'esposizione corretta anche coi parametri sbagliati per quel tipo di fotografia vi faccio un esempio se io sto facendo fotografia di prodotto e la mia esposizione è giusta ma ho scattato a f 1.2 è una foto di prodotto a f 1.2 metterà in luce solamente una parte del mio prodotto mentre tutto il resto sarà sfocato perché con un'apertura simile avremo il prodotto sfocato in fotografia di prodotto io il prodotto lo voglio vedere tutto a fuoco quindi quello è un errore anche se l'esposizione è giusta nel caso della fotografia di interni di architettura secondo me si comporta più o meno nello stesso modo ovvero noi dobbiamo cercare di avere tutto a fuoco non esiste in una fotografia di interni che io metta a fuoco il tavolo principale della stanza o il letto principale nella camera da letto e la parete dietro sia fuori fuoco lo posso fare nei dettagli se sto fotografando dei vasetti o dei bicchieri sul tavolo posso sfocare lo sfondo ma quello è un dettaglio sulle totali dove si deve vedere tutta la stanza quelle devono essere totalmente a fuoco non devono esserci dettagli fuori fuoco in una foto del genere questo ovviamente possiamo ottenerlo lavorando sul diaframma quindi andando a chiudere il nostro diaframma riusciamo a mettere a fuoco tutta la stanza e guardate nella mia esperienza se stiamo usando una fotocamera full frame con un 16 mm almeno un 16 mm magari anche un 14 non abbiamo problemi nel momento in cui stiamo facendo una totale sulla stanza e mettiamo a fuoco anche in automatico quindi la macchina metterà a fuoco i mobili più vicini se stiamo scattando tra f8 e f11 è difficile sbagliare con un grand'angolo di quel tipo su full frame con una distanza come quella in un contesto come quello è difficile sbagliare quindi un'altra domanda che mi hanno fatto spesso è ma perché non usiamo l'iperfocale in fotografia di interni secondo me è totalmente sbagliato come approccio ma per due motivi principali il primo è che l'iperfocale si usa quando non si ha tempo di pensare ho sentito tanti e io non la faccio questa cosa quindi questa è una cosa che ho sentito dire ma che mi è piaciuta come approccio mi ha suscitato il mio interesse quindi ve la riporto in fotografia sportiva o soprattutto ancora di più in fotografia street io posso usare l'iperfocale perché non ho tempo di guardare e non ho tempo nemmeno di comporre quindi io so che con la regola dell'iperfocale se sto osservando delle persone che si muovono a una data distanza con la regola dell'iperfocale io posso scattare senza nemmeno guardare nell'oculare questa è una cosa che non mi appartiene infatti io non faccio street però me l'hanno raccontata dei fotografi che invece fanno street mi hanno proprio detto guarda io per non farmi vedere dalle persone quindi per non influenzare il loro comportamento e per la velocità di esecuzione io imposto l'iperfocale poi non guardo neanche più pam 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 sparo a caso senza nemmeno guardare nell'oculare e poi quel che viene viene in questo modo so che a una data distanza avevo i miei soggetti a fuoco questo può avere senso in fotografia di interni non è così non è questo il contesto in fotografia di interni noi abbiamo tutto il tempo di premere il bottone di messa a fuoco e la macchina ci mette quel nanosecondo a mettere a fuoco e non è che abbiamo perso la scena la stanza che stavamo fotografando non se ne è andata mentre noi mettevamo a fuoco quindi non ha senso usare l'iperfocale in fotografia di interni inoltre usare l'iperfocale in fotografia di interni è pericoloso secondo me perché l'iperfocale ci spinge a cambiare inquadrature ad allontanarci ovvero io compongo la mia scena decido che la mia stanza la fotografo in questa posizione perché è la composizione migliore dopodiché mi metto lì a fare i conti dell'iperfocale mi dico che in questa stanza c'è un tavolo e poi c'è un muro dietro attenzione però la regola dell'iperfocale mi dice che a questo diaframma per avere a fuoco sia il tavolo sia lo sfondo devo fare tre passi indietro e così perdo l'inquadratura che avevo fatto non è questo che voglio io voglio fare l'inquadratura la profondità di campo la regolo dopo semmai chiudendo il diaframma però è impensabile per il mio modo di lavorare di dire ok l'inquadratura la facciamo meno bella di quello che avremmo potuto perché la regola dell'iperfocale mi dice devo andare indietro o avanti non esiste non esiste secondo me non è il metodo corretto piuttosto se abbiamo veramente non succederà ma se abbiamo veramente problemi di messa a fuoco che non riusciamo a tenere tutto a fuoco se veramente dovesse succedere piuttosto focus bracketing piuttosto facciamo così ma l'iperfocale in interni secondo me ha veramente poco senso e siamo arrivati all'ultima e forse la più importante la più basilare delle regole della fotografia di interni di architettura che è le verticali le verticali devono essere parallele ai bordi della nostra foto questo perché per una serie di motivi innanzitutto è più gradevole da vedere dobbiamo pensare che se metteremo le nostre fotografie su un sito web o su un magazine insomma le destinazioni classiche di una fotografia qualsiasi essa sia anche instagram dobbiamo pensare che se abbiamo le foto tutte dritte messe affiancate daranno un'idea di solidità daranno un'idea di un qualcosa di progettato e di scattato tutto nello stesso modo se ne abbiamo una storta così una storta cosa una storta così una storta nell'altro modo daranno l'idea di essere fatte a caso quindi è importante farle tutte belle precise con le verticali parallele questo si ottiene semplicemente mettendo la fotocamera perpendicolare quindi non è così difficile basta mettere la fotocamera in bolla sul nostro treppiede e abbiamo ottenuto l'effetto attenzione alcuni edifici sono storti di natura quindi in certi casi non è sufficiente mettere in bolla ma dobbiamo correggere manualmente perché alcune verticali sono storte proprio nell'edificio quindi a questa cosa dobbiamo fare un minimo di attenzione se abbiamo cannato in fase di scatto e succede cerchiamo di essere quanto più precisi possibile ma capita di cannare di poco in fase di scatto correggiamole in post non mandiamo fuori le foto sbagliate ora attenzione questa è una regola e come tutte le regole può essere infranta basta sapere quando farlo personalmente questa regola trovo che si possa infrangere solamente quando non c'è altra scelta o quando si sta fotografando qualcosa di molto particolare che non sarebbe possibile riprendere in altro modo un esempio che mi viene in mente sono certi soffitti di certi corridoi molto lunghi mi viene in mente per esempio l'opera Garnier a Parigi piuttosto che Versailles piuttosto che qualcos'altro che ho visitato di recente non mi ricordo più ci sono dei contesti dove io mi trovo a dire ok ho un 14 mm un 14 non un 28 ok con un 14 mm non riesco a farla dritta perché non ci riesco perché la stanza è troppo è troppo grande è troppo stretta è troppo qualcosa quindi non riesco a comporla per intero con un 14 se non riesco a comporla dritta con un 14 forse è una stanza che non si presta e allora posso tiltare e avere le linee cadenti però sono casi molto particolari e non deve diventare la regola deve essere un'eccezione dove dici va bene qui l'ho reputato accettabile perché è un edificio di rilevanza storica magari dove ho accettato un compromesso di questo tipo in una struttura moderna nuova soprattutto appena realizzata da un architetto cerchiamo di non presentare foto fatte in quel modo se possibile cerchiamo di non presentarle a meno che non ci siano magari impennaggi strani o che ne so ascensori trombe delle scale dove si crea un bel effetto dove riusciamo a guidare l'occhio magari con una spirale che ci porta dentro nell'immagine però sono casi particolari e secondo me devono rimanere l'eccezione bene amici a questo punto vi chiedo come sempre parliamone nei commenti ditemi se c'è qualcosa che ho dimenticato o qualcosa su cui non siete pienamente d'accordo ne parleremo e come sempre vi risponderò con degli shorts verticali quindi vi ricordo di iscrivervi al canale così non andate a perderveli è stato come sempre un piacere passare un po del mio tempo con voi e io vi do appuntamento al prossimo video ciao